Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi realizzo questo video tag, sono stata taggata da Chris del canale Chris Beauty Channel, che ringrazio, e ovviamente lascerò qui sotto in info box il link al suo video e anche al video di Amarillis del canale Cuba Libre, che è stata la prima a proporre questo video tag su YouTube Italia. Il video tag si chiama Se io fossi un profumo? E quindi è un argomento che ci piace tanto, no? A noi appassionati immaginare come potrebbe essere un profumo creato da noi o un'intera linea. Iniziamo con la prima domanda, che è appunto, se io fossi un profumo che nome avrei? Allora, io se facessi, io vorrei fare una mia linea di fragranze e sicuramente uno di questi profumi, o il primo comunque, lo chiamerei Cuor di Luna, perché sono patita della Luna, non so perché, ma è sempre stato così, mi è sempre piaciuta molto, è un astro che esercita su di me un fascino molto particolare, mi ci sento in qualche modo connessa, anche perché ho, come dire, imparato tanti significati legati alla Luna, alla sua simbologia, anche astrologica, e quindi vabbè, mi interessa tantissimo, è un qualcosa che mi sta a cuore e quindi Cuor di Luna. domanda numero due. Con quale naso collaboreresti per la tua creazione? Allora, io non ho dei nasi preferiti o un naso preferito, anzi proprio, come vedete, non parlo mai dei nasi, cioè raramente nomino un naso quando descrivo i profumi, perché è proprio il mio modo che, cioè non fa parte della mia ricerca soffermarmi su il creatore, proprio il naso, quindi, così, non... perché a parte che a me non interessa tanto chi lo ha fatto, perché un profumo, comunque, cioè non voglio farmi condizionare, ecco, il profumo mi... se mi piace, mi piace, se non mi piace, non mi piace, può anche averlo fatto chissà chi, insomma, e quindi non voglio farmi condizionare, per cui, quando comunque leggo le note di un profumo, leggo sempre, mi capita di leggere, ovviamente, anche il naso, ma lo tralascio, poi, cioè non mi interessa, non sto lì a pensare a questo naso e quello che ha fatto quest'altro e a cercare un denominatore comune o delle caratteristiche in comune tra i vari profumi che ha creato questo naso e farmi una ricerca mentale in questo senso. Anche perché, secondo me, c'è sempre... è molto difficile, come dire, capire che cosa sta dietro, cioè io posso anche dire che, che ne so, un naso ha il suo stile, ok? Però quando poi lavora, ad esempio, per Hermès o Dior, a seconda del marchio, si deve regolare e per cui, secondo me, è molto... è troppo complicato cercare di capire come effettivamente, cioè, come dire, cosa riporta il naso in quelle creazioni, cioè, e quindi, ecco, mi sembra un condizionamento che è meglio non fare, almeno io, per me, su di me, perché, appunto, mi sembra un azzardo cercare di capire come questi lavorano, perché, appunto, un conto è se sono da soli nella loro linea, tipo Francis Courjan, che ha fatto anche la sua linea, allora ok, è un altro conto. Però quando fanno i profumi per marchi totalmente diversi, non so, Narciso Rodriguez, Elie Sab, sempre Courjan ha lavorato per entrambi, secondo me è difficile o comunque noi siamo troppo all'oscuro per capirne qualcosa, perché comunque sono grandi aziende che chissà come lavorano, cioè io non ne ho un'idea, ecco, da fuori mi sembra troppo azzardato cercare di capirne qualcosa. Ecco, fatta questa premessa, comunque, il naso che ho scelto è Christine Nagel, perché? Per un semplice motivo. Allora, è il naso, per farla breve, che ha creato The One di Dolce Gabbana e ha creato, soprattutto, per me, questo meraviglioso profumo di Etalivre d'Orange, che è Archivio 69. Questo è un profumo simbolo di questo marchio di Etalivre d'Orange, perché proprio Etalivre d'Orange, il laboratorio si trova in via, infatti lo vedete anche sotto tutti i profumi, al numero 69 di Via degli Archivi, Rue des Archives, una cosa del genere. Vabbè, ma a parte questo profumo, il naso Christine Nagel, in questo caso, l'ho scelto perché lei ho letto, appunto, in alcune ricerche che ho fatto quando ho scoperto questo profumo. Quindi, ecco, un po' a caso, come vedete, perché ho letto che lei lavora in una maniera, cioè si definisce un naso tattile e quindi crea delle fragranze che, comunque, la sua idea, la sua visione è quella di dare ai profumi una connotazione quasi materica, una densità, un corpo e quindi io adoro percepire questa caratteristica nei profumi e comunque poi, appunto, questa marca che è Etalivre d'Orange, io so che dà molta più libertà ai nasi di esprimersi come vogliono. Quindi, ecco, in questo caso, secondo me, se è davvero così, appunto, sceglierei lei anche perché da questo profumo posso capire veramente come lavora, è meno condizionata rispetto a un marico e come può essere Dolce Gabbana piuttosto che un altro. Quindi, ecco, andando sulla base di questo ragionamento, sceglierei lei proprio perché io sono legata anche molto al senso del tatto, cioè questo senso mi fa un po' tornare bambina, mi dà quella gioia un po' infantile ma sana e quindi quando io sento questi profumi che hanno un loro corpo, un loro spessore, che sembra quasi di toccarli, io sono molto, mi rendono molto felice, mi piacciono, insomma, noto questa sensazione e il profumo mi piace ancora di più. Quindi sceglierei lei per questo motivo, perché vorrei che anche i miei profumi avessero questa caratteristica, magari non tutti, però Cuor di Luna magari mi piacerebbe che si sentisse tipo anche una consistenza come può essere quella di toccare un sogno e quindi viverlo, insomma qualcosa di più fisico che avvicina il sogno alla realtà anche perché Cuor di Luna sarebbe un profumo surreale e però io ci voglio dare quel quid di realismo, insomma, che può in un certo senso sconvolgere, nel senso può dare il giusto imprinting, può entrare di più, ecco. Poi numero tre, sette tue note preferite che dovrebbe avere il tuo profumo. Allora, io sceglierei sette note, dunque, devono dare l'immagine della luna, quindi il chiarore, la lucentezza lunare, per cui sceglierei il gelsomino e il giglio. Il giglio mi piace molto. Il giglio è un fiore importante perché questo profumo l'ho pensato per una donna che comunque si dà il suo valore, la sua importanza e si rende, cioè, anche molto misteriosa e impenetrabile. Quindi il giglio rappresenta proprio questo, anche perché è un fiore associato a Maria, alla Madonna e proprio nel momento, anche nell'iconografia, vediamo che ha questo fiore perché proprio quando le viene detto di essere incinta, di aspettare il bambino Gesù, per cui in quel momento con questo fiore si celebra il mistero della fede, per cui il mistero nel suo senso più alto e più puro. Per cui ecco il giglio. Poi metterei una nota di latte perché la luna è anche simbolo di nutrimento, di nutrimento materno e il latte è il nostro primo nutrimento che ci dà proprio la mamma, per cui una nota di latte. Poi metterei un fondo di ambra e vaniglia, poi me ne mancano due. Le altre due farei forse un... ah, dell'iris. L'iris perché vorrei dare un tocco anche un po' talcato, che dà questa sensazione pudrè, un po' avvolgente e sempre un po' pura. E infine... che cosa sceglierei? L'ultima nota... magari una nota... una piccola nota di rosa che dà quella... che però si sente e non si sente, ecco. Anzi no, no. Voglio cambiare e metto una nota marina. Perché la luna è collegata appunto alle acque, quindi... una nota marina. Ok. Come vedete non mi sono preparata tutto perché volevo vedere che cosa mi veniva fuori al momento. Numero 4. Il tuo profumo sarebbe di nicchia, commerciale o di celebrità? Allora, io vorrei che fosse di nicchia, ma perché comunque... cioè, non può essere di commerciale, perché io non lavoro per Chanel o per Lancome e via dicendo. Per cui, siccome non escludo che nella mia vita io possa creare delle fragranze, cioè, o perlomeno avere una mia linea, per cui, ecco, sicuramente sarebbero di nicchia, ecco. Proprio per essere realista dico di nicchia. Poi, quale casa di profumi preferiresti per il tuo profumo? Stesso discorso, la mia. Quindi magari farei anche proprio una linea che... cioè, comunque il mio marchio si chiamerebbe Paradisi Artificiali, magari. Numero 6. Di quanti ml sarebbe il tuo profumo? Farei una cosa però classica, invece, ecco. Rispetto... la nicchia solitamente ha dei formati un po' grandi. Non ha il formato da 30 tante volte, o da 50, insomma. Io invece mi piacerebbe comunque offrire un po' più di varietà in questo. Quindi i formati classici, 30, 50 e 100. Se proprio non è possibile, perché comunque hanno dei meccanismi... C'è un altro concetto dietro, però farei 50 e 100 a quel punto. Però, insomma, è sempre più di un formato. Poi. 7. Quale sarebbe la forma preferita per la bottiglia del tuo profumo? Allora, io adoro le bottiglie, i flacconi tondeggianti, un po' sinuosi. Vi faccio vedere alcuni che ho scelto. Lovely, questa è di Sarah Jessica Parker. E quindi, questa... cioè, io adoro questa forma. Secondo me è troppo bella. Bellissima. Un po' panciuto, così. O anche come la Jean Provocateur. Queste forme tondeggianti, morbide, proprio... Anche Olimpea, questo comunque è rotondo. Quindi prediligo queste forme tondeggianti. Numero 8. Quale modella ti piacerebbe per la pubblicità del tuo profumo? A me... allora, Angelina Jolie me l'hanno già presa. Guerlain, peccato. Prenderei, cioè, mi piacerebbe comunque nella mia visione, Eva Green. L'attrice che ha fatto The Dreamer, di Bertolucci. E ha fatto anche, sempre lei, la pubblicità di Midnight Poisson di Dior anni fa. In cui era vestita da cenerentola. Ma secondo me, appunto, in quella pubblicità... L'hanno un po', cioè, non ridicolizzata. Però l'hanno resa troppo, secondo me, irreale. Ma in un senso, come posso dire... In un senso un po', come dire... Un po' ricalcando il cliché della principessa. Però, secondo me, non esaltando, invece, le sue qualità autentiche. Quindi hanno fatto una cosa che io ho visto, percepito, come un po' troppo buonista. Nel senso, invece, lei ha queste fattezze, ha questo... Trasmette questo magnetismo un po' tenebroso, un po' molto misterioso, ecco. E mi sa proprio... la sceglierei perché proprio mi sa di quei visi che hanno questa espressione enigmatica. Appunto, tornando all'impenetrabilità di cui vi parlavo prima. È impenetrabile, ha questo viso enigmatico, molto misterioso, un po' tenebroso, ma il giusto. Cioè, non è una dark lady. A mio modo di vedere, poi ha questa pelle diafana, proprio come la luna. Quindi racconta sia un po' la luna che l'oscurità in cui è immersa la luna. Però mi piace perché ha questo viso che proprio è enigmatico. Anche un po' sembra quasi malinconico, non ti fa vedere che cosa pensa, non ti fa capire. Quindi mi piace molto questa caratteristica e sceglierei lei. Mentre appunto in quella pubblicità di Dior, secondo me, l'hanno resa un po' troppo... cioè, non hanno fatto vedere questo. L'hanno resa più accessibile, in un certo senso, facendole fare cenerento. Non so perché mi dà questa idea. Poi, 9. Quale sarebbe il prezzo del tuo profumo? Un prezzo non esagerato. Farei magari il 50 ml 70 euro e il 100 ml 90. Ecco, non una cosa esagerata, eccessiva. 10. Tagga chi vuoi. Allora, io voglio taggare... perché c'è questo tag che è stupendo... Voglio taggare Ornella del canale Selvaggia Bellezza, Rita del canale Rita64, Alessia del canale Polvere di Viole e Crix60035. Scusami Crix, ho fatto un casino. È che mi ero segnata tutto e io quando mi segno le cose faccio peggio, perché andare a braccio mi risulta molto più agevole. Quindi, grazie mille a tutti comunque per essere stati con me. Ci vediamo presto. Un grande bacio.